Estra si candida come il gruppo industriale capace di costruire un soggetto unico regionale di gestione dei servizi pubblici, acqua, rifiuti e gas, la proposta lanciata ad Arezzo al convegno di metà luglio multiutili di Toscana. Estra arriva in Puglia, Centria, la società di distribuzione del gruppo, ha acquisito l'attività di distribuzione del gas nei bacini di Foggia e Bari. Centria gestirà una rete di circa 544 km. Ecco Estrabot, l'innovativo robot donato da Estra Prometeo alla Fondazione Ospedale Salesi, ideato per aiutare i bambini nelle cure, presto entrerà in servizio in alcuni reparti del nosocomio di Ancona. Il presidente di Estra, Francesco Macri, eletto vicepresidente di Utilitalia, la federazione che riunisce circa 500 aziende dei servizi pubblici. Nella giunta federale, anche la presidente di Multiservizi Ancona, Chiara Sciascia.